adesso spazio alla medicina parliamo di come star bene di come invecchiare bene proprio così vi sveleremo qualche piccolo segreto a parte gli scherzi cercheremo di darvi qualche utile informazione su come tenersi in forma e appunto mantenersi al meglio lo facciamo con il prossimo ospite è un piacere averlo a vera mattina il dottor attilio cavezzi buongiorno buongiorno dottore grazie buongiorno grazie per aver accettato il nostro il nostro invito allora da cosa possiamo partire dottore qual è la considerazione diciamo iniziale perché ci troviamo anche in una fase un po' particolare no delle nostre vite siamo tutti un po' sul chi va là però poi ognuno deve far affronte alle proprie esigenze una verità no incontrovertibile tutti invecchiamo e allora come farlo in modo sano corretto come preservare la nostra salute questa è una domandona come si suol dire allora diciamo che il problema che di cui dovremmo prendere tutti coscienza e che lo dico sempre scherzando in alcune conferenze noi eravamo stati programmati dalla natura per vivere 40 anni circa e tutto sommato fino a circa 100 150 anni fa quella era la vita media che si viveva la vita massima è sempre stata intorno agli 80 90 100 110 secondo le varie ere però in sostanza negli ultimi 120 130 anni siamo arrivati a vivere una vita media oggi di circa 80 81 82 anni e così via questo ha cambiato completamente il nostro modo di gestire la salute ragion per cui è proprio un accumulare progressivo di patologie che ci comporta un invecchiamento più o meno salutare perché tutto questo discorso perché alla fine quello che è accaduto è che abbiamo prolungato la vita media ma come si suol dire non abbiamo prolungato la salute media questo un po' il problema di fondo che ci portiamo dietro ecco fatto che tutta una serie di patologie tipo la terosclerosi il diabete l'obesità le patologie autoimmunitarie lo stesso cancro comunque tante malattie che si chiamano croniche degenerative la demenza senile tutto il mondo della neurodegenerazione l'alzheimer il parkinson assolutamente vero tutte queste patologie croniche degenerative cominciano ad avere un'importanza maggiore viviamo sopra i 50 60 anni in particolare ancora di più 70 80 dipendenti da farmaci da tecnologie e tutto questo in piena anche disabilità cioè vediamo sempre più il ricorso agli apparecchi acustici i vari pannoloni di ambulatori il business direbbe chi magari è un po maligno ecco sì diciamo l'invecchiamento è dato anch'esso un business purtroppo perché ripeto dipendiamo troppo da tutto questo posso posso fare una riflessione e poi lei vi darà la risposta e lei ha parlato poco fa dicendo che siamo stati programmati tra virgolette per vivere 40 anni questo ovviamente era qualcosa che apparteneva non tanto all'uomo di neanderthal che forse viveva anche meno o agli egiziani ma diciamo dall'antica roma in poi non è che le condizioni di vita e soprattutto come è cambiato il nostro stile di vita che ci ha portato a prolungare questa vita media più che il fatto che siamo stati programmati cioè l'uomo di neanderthal viveva in maniera molto differente rispetto a noi e siamo stati noi che abbiamo cambiato il nostro stile di vita e abbiamo prolungato la nostra vita non ci sono stati fattori endogeni sono stati più che altro fattori esogeni cioè siamo stati noi stessi a fare delle ricerche delle cure e a studiare per poter prolungare la nostra vita siamo noi diciamo i proprietari del nostro futuro nel bene e nel male è assolutamente vero che siamo noi proprietari della nostra salute l'avrei detto poi piano piano successivamente nel senso che il fattore principale che ci ha prolungato la vita è stata la sconfitta delle infezioni mentre prima di infezioni si moriva tubercolosi peste ne abbiamo di tutti i tipi ma anche semplicemente malattie virali di banali come anche la stessa influenza la polmonite insomma erano mortali a tempo eroico oggi con gli antibiotici in particolare il vaiolo esatto insomma oggi siamo riusciti a sconfiggere le infezioni negli ultimi cento anni in particolare è migliorato notevolmente la natalità prima si moriva molto di più di parto insomma sono accadute tante cose è migliorato l'igiene sono accadute tante cose per cui la vita media è prolungata questo è un dato di fatto il problema torno a ripetere che fino a 40 anni non dico che si moriva sani a 40 anni però si moriva per queste cose cioè perché c'era un trauma perché c'era un'infezione e così via oggi purtroppo si muore nella stragrande maggioranza dei casi per malattia cronica degenerativa non siamo riusciti a seguire questo aumento della vita media con un aumento della salute media cioè non siamo riusciti a combattere quelle malattie che però poi col nostro stile di vita che purtroppo è un po' peggiorato con la nostra nutrizione che purtroppo è un po' peggiorata ci stiamo portando dietro malattie che vanno appunto ad incidere pesantemente e ecco che ci attacchiamo a farmaci tecnologie che fanno bene agli esseri umani e ci mancherebbe non sono qui a dire il contrario è però vero che dobbiamo ed è un po' il messaggio che magari cercherò di far passare nella chiacchierata che stiamo facendo è riappropriarci però della nostra salute che sarebbe importante che vuol dire cominciare a pensare a come vivere la nostra nutrizione come vivere la nostra attività fisica lo stile di vita il sonno eccetera e come gestire lo stress sono un po' questi tre i pilastri al di fuori di tecnologie e farmaci per carità Dottor Cavezzi allora andiamo per ordine abbiamo anche a supporto delle diapositive e così lei ci può spiegare meglio qual è il percorso ecco da proporre ai telespettatori di Vera TV qual è la prima considerazione? Prego alla regia Ecco questo è un po' quello che vi accennavo che sopra i 70 anni purtroppo dipendiamo un po' per scelta nostra un po' per scelta di aziende un po' per scelta proprio della medicina dipendiamo molto direi anche troppo da farmaci e tecnologia diciamo medico-sanitaria lì sta il problema per cui questa serie di patologie che erano veramente che avevano un'incidenza tra virgolette ridicola alcune di quelle patologie menzionate nella diapositiva sono aumentate negli ultimi 40-50 anni del 2000-3000% quando una malattia cresce del 2000-3000% certamente è dovuto al fatto che viviamo più a lungo però negli ultimi 40 anni non abbiamo aumentato se non di circa 7-8 anni la vita media ma molto di più dipende proprio da una nutrizione, uno stile di vita che è stato così cambiato è aumentato lo stress, quindi anche le malattie dovute a questi fattori, no? come vedremo la tensione, l'ipertensione, eccetera sì, esatto, molte di queste malattie sono un mosaico di tanti fattori negativi che incidono su di noi vediamo quel quadro perché io non sono riuscito a leggere ecco, il prezzo da pagare per l'allungamento della vita media è l'aumento esponenziale 50 volte rispetto a 100 anni fa di patologie degenerative quelle che abbiamo parlato prima obesità, diabete, colesterolo, eccetera quindi queste Alzheimer, Parkinson e delle disabilità sopra i 70 anni gli esseri umani sono prevalentemente dipendenti da farmaci e tecnologie a medico sanitario quello che ha detto adesso il dottor Cavizzi andiamo avanti con la seconda così magari andiamo avanti con il discorso cerchiamo di capire, ecco qui però partono le brutte e le belle notizie con questa diapositiva perché è la genetica che entra in campo ecco, allora diciamo la parte brutta e bella perché? perché se è vero che i nostri genitori inevitabilmente decidono quanto siamo alti, quanto siamo bassi e che colore abbiamo di capelli e di occhi, eccetera non è assolutamente vero che decidono della nostra salute se non per il 25% dal punto di vista genetico quindi ci sono studi che hanno dimostrato su gemelli omozigoti quindi perfettamente identici dal punto di vista diciamo della genetica, dei cromosomi quando vanno incontro ad una nutrizione diversa, ad uno stile di vita diversa, ad uno stress diverso producono un invecchiamento profondamente diverso quindi si ammalano di più o si ammalano di meno questa è la epigenetica, una parolaccia che sta a dire sopra la genetica noi possiamo attraverso moltissimi fattori interagire su questa espressione genetica che si chiama fenotipo cioè è vero, questi sono i nostri cromosomi ma dato che il nostro DNA non sta sempre a produrre proteine, tutt'altro ma siamo noi che lo influenziamo da fuori, l'ambiente possiamo cambiare la nostra espressione fenotipica quindi diciamo il nostro avanzare negli anni del cuore, del fegato, del pancreas della pelle, dei capelli, eccetera in base a come ci comportiamo e reagiamo rispetto agli impulsi dell'ambiente questa è un po' l'epigenetica detto in maniera molto semplice altro perché invecchiamo? ecco, allora perché noi andiamo ad invecchiare? dicevamo, numero uno, si dice sempre la genetica perché l'ha deciso il parreterno io ho l'aterosclerosi perché ce l'aveva anche mio padre nulla di più falso si può dire forse che io ho le vene varicose perché l'avevano i miei genitori in quanto le vene varicose hanno una forte componente genetica però la genetica, come dice questa bella frase del professor Galimberti nel DNA non c'è assolutamente il fatto c'è il 25% il processo che oggi la scienza ha riconosciuto come più importante di tutti per l'invecchiamento è l'inflammaging vale a dire l'infiammazione cronica cellulare di basso grado cosa vogliono dire tutte queste cose? che noi ci infiammiamo ma non tanto perché ci fa male un gomito ed è un'epicondilite non è un'infiammazione acuta come la intendiamo noi quindi un'epicondilite, una cistite tutte queste cose conosciute ovviamente dalla medicina ma è proprio che le nostre cellule di cui siamo composti cominciano ad infiammarsi progressivamente sempre di più ad accumulare tossine in particolare, come era segnalato nella diapositiva ad accumulare radicali liberi che sarebbero la spazzatura che noi tendiamo ad accumulare con il metabolismo stesso nostro siamo noi che più viviamo e più li accumuliamo poi però ci arrivano anche dall'esterno il fumo, le radiazioni, l'inquinamento quello che mangiamo eccetera eccetera quindi radicali liberi sono quelli che sentiamo parlare nelle pubblicità e non sono soprattutto seguaci di Marco Pannella che vanno liberi questo tanto per farci capire ma Pannella non c'entra quindi insomma questo fatto che invecchiamo è dovuto, dicevamo nella diapositiva precedente ai radicali liberi, ai mitocondri ma c'è anche una forte componente del mondo stress vale a dire noi abbiamo un sistema in realtà parliamo proprio di un paradigma con cui guardarci dal punto di vista psico-organico che è il sistema psico-neuro-endocrino-immunitario quindi psico e sappiamo tutti cosa vuol dire neuro, la parte cerebrale endocrino che vuol dire tutto il metabolismo ormonale immunitario, l'immunità è una rete unica che sta dentro di noi che governa un'interazione costante che esiste tra la nostra mente e il nostro corpo è fin troppo facile immaginare che l'immunità appunto i processi ormonali il nostro invecchiamento è sotto l'influsso potente della psiche e del cervello così come il nostro corpo interagisce col cervello quando noi lo andiamo a sregolare progressivamente e qui parliamo di stress cronico purtroppo ci acceleriamo il nostro invecchiamento e acceleriamo la produzione di malattie questo è un po' ciò che stiamo capendo oggi dal punto di vista dei processi principali poi nella diapositiva che avevo appena mostrato ce ne sono altri sappiamo appunto l'importanza per esempio del microbiota o microbioma cioè la vecchia flora intestinale che una volta veniva così considerata interessante ma come dire ti mangi questo e ti metti a posto non è proprio così quello che si è visto è che la flora intestinale possiamo chiamarla microbiota quindi batteri, virus, miceti e quant'altro è potentissima in termini di regolazione ancora una volta del nostro metabolismo si stanno studiando dei probiotici cioè delle sostanze da immettere nel nostro intestino perché poi la flora intestinale è il principale microbiota l'abbiamo anche in altre ferie i fermenti lattici vanno utilizzati? esatto, fanno parte dei probiotici non solo quando abbiamo il virus per intenderci intestinale ma abitualmente secondo lei? diciamo ce ne sarebbero tanti di fermenti lattici o quindi di probiotici e di prebiotici perché la flora va nutrita e va cambiata quando non va bene questi sono i concetti dei prebiotici che nutrono i probiotici che invece diciamo così sono appunto i nostri commensali e sono una marea di cellule di questi organismi i microorganismi che vivono nel nostro intestino ma non solo e si è visto proprio con certezza che in particolare queste malattie croniche degenerative quindi in particolare le malattie del metabolismo possono essere migliorate o peggiorate in base a quello che è il quadro del nostro intestino voglio fare un esempio per essere chiaro viva i probiotici viva tutto ciò che ci può dare diciamo così la farmacologia però viva anche per esempio il kefir cioè quando noi riusciamo a mangiare qualcosa che la natura ci dà il famoso yogurt fermentato che è il kefir riusciamo a ricostituire una flora in condizioni e in tipologia soprattutto di ceppi che è migliore rispetto a quella probabilmente che ci portiamo dentro e da lì parte un miglioramento di tutta una serie di processi all'interno del nostro corpo quindi il microbiota sicuramente gioca un ruolo importante poi andiamo avanti eccoci ecco allora entriamo ecco nel cuore della nostra chiacchierata io su questa diapositiva mi fermerei molto poi ce ne sono tante altre per carità però qui se vogliamo leggere allora abbiamo detto tante cose brutte adesso diciamo le cose belle cioè cosa possiamo fare per vivere più a lungo e in salute il digiuno intermittente non mi sembra una cosa bella comunque vabbè il digiuno intermittente? eh ho letto lì il digiuno intermittente? vediamo, vediamolo meglio il digiuno intermittente? non l'avevo letto eccoci qui io ho parlato prima fondamentalmente di tre pilastri il primo è la nutrizione che vuol dire bilanciata quindi un equilibrio tra grassi, proteine e carboidrati la famosa restrizione calorica quindi mangiare meno mangiare meglio ma qui si inserisce e ripeto se volete ne parliamo adesso ne parliamo poi il digiuno intermittente e questo è un primo pilastro poi lo possiamo esaminare insieme alla nutrizione abbiamo sempre all'interno di questo pilastro il potenziale dei nutraceutici cioè la natura ci ha dato ancora una volta qui stiamo parlando non di farmaci mi sto soffermando su cose un po' più alla nostra portata tutti i giorni quindi questi sono i provvedimenti stile di vita diciamo sì, parliamo di nutrizione stile di vita e stress quindi la natura ci ha dato insieme a una buona nutrizione da eventualmente eseguire la possibilità di sfruttare delle sostanze naturali i famosi polifenoli innanzitutto sono sostanze estremamente potenti perché è vero che sono degli antiossidanti che troviamo lo vedremo tra un attimo in vari prodotti naturali però sono anche dei pesticidi naturali cioè ci disturbano quel tanto affinché poi noi reagiamo poi abbiamo l'attività fisica che è uno dei pochi strumenti dimostrati definitivamente insieme appunto alla restrizione calorica per vivere più a lungo in salute sia negli animali che negli esseri umani qui non si parla di medicine dottore cioè qui si parla proprio di come condiciamo la nostra vita per questo io punto diciamo uno deve fare la sua parte l'indice su noi stessi siamo noi che ci dobbiamo riappropriare della salute appunto nutrizione, nutraceutici, attività fisica e qui siamo nello stile di vita allora lo stile di vita però sempre nella diapositiva vedevamo che comprende altro e comprende il famoso concetto del mondo pnei quindi il sonno ne parliamo dopo ancora una volta il mondo della respirazione della preghiera cioè della mente tutto questo ci porta ecco questo è un concetto che io voglio lanciare con una forza proprio grande al concetto della resilienza allora noi in questi ultimi mesi non andremo a parlare di questo concetto forse un po' abusato direi esatto nel senso che al di là di alcuni personaggi particolari che ne hanno abusato nei loro video promozionali di se stessi eccetera non sto qui a fare nomi in realtà purtroppo in occasioni di catastrofi quali terremoti o adesso la nostra famosa pandemia di covid-19 la resilienza è importantissima ed è una resilienza anche qui qualche diapositiva forse ci sarà di tipo psichico ma anche biologico ma questa resilienza in particolare quella di tipo psichico la si può e la si deve migliorare perché è un fattore fondamentale per vivere più a lungo in salute se mostriamo un secondo solo la diapositiva c'era un'ultima parte vedete ancora una volta lavoriamo sul microbiota dicevamo prima per migliorare la nostra possibilità di vivere più a lungo in salute e poi due concetti veloci che magari riprendiamo se volete i mitocondri i mitocondri sono le fabbriche di energia nelle nostre cellule non voglio entrare troppo in dettaglio ma sembrano ogni giorno più importanti e il concetto dell'ormesi ci torneremo è un modo per stimolarci con il caldo con il freddo con il digiuno con tutta una serie con l'attività fisica con tutta una serie di provvedimenti affinché noi possiamo reagire cioè quello che è accaduto secondo me in questa società di oggi è che ci sfidiamo pochissimo si vive troppo bene mettiamola così è tutto molto comodo oggi e questo però non fa bene al nostro corpo non fa bene al nostro corpo nemmeno alla nostra mente però l'apnei lì mi sembra lo stile di vita dell'eremita Alfredo quante ore dormi? non mi parlare di sonno perché io quando mi devo svegliare presto poi divento intrattabile no ma l'apnei è lo stile di vita dell'eremita sonno meditazione preghiera praticamente se faccio il monaco tibetano riesco a vivere benissimo dottore dobbiamo insomma cambiare a tal punto le nostre abitudini allora sul mondo pnei potremmo dire veramente tante cose però lo vorrei riassumere in due parole è la gestione dello stress ed è l'aumento della resilienza il monaco tibetano non ha stress beh non ha stress d'accordo quello è un tipo di vita però noi che invece lo stress ce l'abbiamo lo dobbiamo imparare a gestire perché volendo fare l'estremista direi che lo stress acuto ci fa anche bene purché sia acuto di breve durata passi subito e di ridotta intensità è lo stress cronico che ci comporta documentate una marea di patologie croniche degenerative questa gestione è un po' l'oggetto principale non l'unico dell'apnei che si basa anche però sulla nutrizione che si basa sull'attività fisica adeguata è un recupero della nostra forza interiore ed è il concetto dell'ormesi io mi sfido per poi fare qualcosa di buono per il mio corpo andiamo avanti con le altre diapositive così diamo modo al dottor Cavezzi di parlarci anche di nutrizione nello specifico entriamo nello specifico cominciamo a entrare nello specifico come dobbiamo mangiare qui io vi potrei dire tutto il contrario di tutto perché la scienza dimostra tutto il contrario di tutto quindi lo considero sbagliato dire questa è la dieta da fare però c'è ogni giorno più evidenza che i carboidrati in eccesso fanno male i carboidrati raffinati i carboidrati nuovi quelli introdotti da tutte le parti per chi non mastica il linguaggio dottore quindi parliamo di zuccheri i zuccheri sì che sono purtroppo di tutti i tipi da quelli naturali che fanno meno male ma un pochino fanno male anch'essi tipo il fruttosio anzi diciamo quando in eccesso fa proprio male a quelli diciamo meno naturali che troviamo sì nello zucchero che conosciamo dei dolci ma li troviamo ovviamente nel pane nella pasta nel riso nelle patate un po' nella frutta in particolare un certo tipo di frutta non è il massimo e assumerli con quale cadenza così più che cadenza si va a percentuale si dice sempre la nostra dieta dovrebbe essere composta da X percentuale eccetera allora io non voglio dare qui percentuali però la famosa dieta mediterranea che era un po' la dieta che era andata per la maggiore e forse va per la maggiore se fosse quella vera di una volta andrebbe anche abbastanza bene il problema è che il 50-60% di carboidrati che c'è nella dieta mediterranea vuol dire oggi ingerire carboidrati sbagliati dicevamo quelli raffinati quelli proprio che non hanno molto di naturale e li mettono veramente dappertutto nei cibi oramai poi dopo certo se noi mangiamo i dolci dalla mattina alla sera o i super alcolici o beviamo bevande zuccherate ce le andiamo a cercare le cose però sono anche nascosti quindi i carboidrati tenerli intorno al 30-40% sarebbe meglio poi vengono i grassi buoni perché i grassi buoni sono stati demonizzati però a me piacque molto il Time una rivista che tutti noi apprezziamo che non ricordo bene se 30-40 anni fa no anche di più forse 50 anni fa pubblicò una copertina dove demonizzava per dire il burro 20 o 30 anni dopo ne ha pubblicato un altro in cui c'era scritto Eat Butter cioè mangia il burro cioè il grasso buono quindi il famoso Omega 3 quindi il pesce buono azzurro in particolare la carne il petto di pollo il coniglio la selvaggina tutto il mondo del grasso che si trova in natura sotto forma per esempio di avocado le famose la famosa frutta secca le noci tutti questi grassi l'elenco è lungo l'olio di cocco questi grassi io quando alfredo e rido perché no no interessante quindi lei mi sta dicendo che se io mangio una fiorentina di chianina faccio bene fai bene ovviamente fai bene ma quando ha detto olio di cocco lì ho guardato la faccia di alfredo l'olio extravergine di oliva è il nostro mondo ecco l'olio extravergine di oliva è pieno anche quello per me l'olio è l'olio extravergine di oliva però dove si cerchi una qualcosa di ulteriormente utile c'è anche l'olio di cocco che è ricchissimo di alcuni grassi faccio un nome su tutti il famoso butirrato che oggi lo danno anche contro il cancro allora scusi mi faccia fare questa domanda perché l'olio di cocco andrebbe bene e invece il latte di cocco bevuto appena rotto la noce di cocco quella contiene zuccheri fa male dunque sono costituenti diversi in effetti all'interno dell'olio di cocco e latte di cocco però il latte di cocco non è così negativo adesso è chiaro che contiene appunto più zuccheri è tutto un mondo diverso rispetto all'olio che invece contiene fondamentalmente grassi i zuccheri adesso non vorrei dire stupidaggini però ce ne dovrebbero essere veramente pochi ma sono grassi veramente buoni sono grassi a catena media soprattutto sono quei grassi di cui abbiamo bisogno per costruire le membrane dei neuroni il famoso colesterolo buono chiamiamolo eccetera eccetera quindi entrano anche perché voglio dire subito una cosa che senza farla complicata noi viviamo perché i nostri mitocondri producono energia abbiamo bisogno di energia si chiama ATP la molecola dell'energia quando noi mettiamo dentro una molecola di zucchero il nostro corpo produce 32 molecole di ATP quando mettiamo dentro una molecola di grasso ne produce 120 130 allora cos'è che vogliono i nostri mitocondri preferiscono i grassi se è possibile quelli buoni perché poi sentiamo nei grassi idrogenati nella maledetta margarina e quant'altro ci massacriamo da soli però i grassi buoni quando si producono i famosi corpi chetonici eccetera la famosa dicitura della dieta chetogenica che è un po' estremista ma anche lì tanti lati positivi sono tutti concetti che dobbiamo recuperare l'utilizzo quindi della buona dieta mediterranea fatta appunto di pesce di carne di legumi le proteine vegetali ce ne sono quindi anche le proteine come quelle diciamo di animali quindi è un equilibrio da trovare nell'ambito della nutrizione poi non so se c'è la diapositiva sempre sulla nutrizione abbiamo parlato però sia di calorie da ridurre perché poi mangiamo veramente troppo oggi questo va detto terminiamo ecco la spiegazione di questa diapositiva così dopo andiamo in pubblicità sta parlando con uno che ha digiuno da ieri sera io ho fatto colazione sono a digiuno da ieri sera quindi non mi dica che baglio un bacio però io non ho capito il digiuno va fatto oppure no il digiuno se qualcuno ce la fa va fatto dottore molti nutrizionisti dicono mai ecco questa è una cosa controversa ecco cinque pasti al giorno cinque pasti cioè qui ne sentiamo di tutti i colori ora lei ci sta dicendo che ogni tanto va fatto il digiuno dov'è la verità cinque pasti al giorno che sarebbero colazione pranzo merenda anzi colazione spuntino pranzo merenda e cena questi sono i cinque pasti che molti nutrizionisti consigliano dottore pochi poco ma tanto voi mi volete far inimicare due terzi della classe medica assolutamente di biologi allora ci dia il suo punto di vista perché comunque è sempre interessante nel senso che non è possibile dire si fa questo perché per ogni individuo va diciamo così ritagliato una tipologia di nutrizione questo varietto come dire quello che sappiamo è che il nemico numero uno nell'ambito del metabolismo è probabilmente l'insulina è questo ormone che noi dobbiamo produrre fondamentalmente per assorbire gli zuccheri all'interno e accelerare il metabolismo si accelerare ma diciamo perché poi più insulina produciamo più grasso si accumula nel nostro corpo questo deve essere chiaro a tutti cioè l'insulina ci serve ma nella dose giusta infatti quando comincia ad essere eccessiva perché mangiamo troppi zuccheri non siamo più bravi a smaltirli piano 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 entriamo in diabete prima insulino resistenza e poi diabete quindi se l'insulina è il nostro nemico si dice con i cinque pasti teniamo evitiamo i picchi di insulina e teniamo l'insulina non troppo alta c'è un fondo di verità però è anche vero che a mangiare tante volte non si dà il tempo al nostro organismo di arrabbiarsi e produrre delle sostanze belle parlavamo prima per esempio dei corpi chetonici però adesso al di là di tutto questo i cinque pasti sono più figli di una mentalità sbagliata che si è diffusa nel nostro mondo perché oggi è facile mangiare mentre una volta altro che cinque pasti una volta sti poveretti facevano uno e era grasso che colava e avete mai visto voi un obeso a 120 anni? no non ci arriva l'obbeso a 120 anni e quello è sicuro che mangia dieci volte al giorno o cinque volte al giorno allora il poter mangiare tre pasti classici colazione pranzo cena va benissimo i cinque io personalmente se non c'è un razionale dietro in qualche occasione ci sarà anche un razionale li eviterei il digiuno è un altro mondo completamente diverso che se lo vogliamo affrontare forse c'era qualche diapositiva in mezzo ma comunque l'affrontiamo il digiuno è un modo per cercare di obbligare il nostro organismo a reagire questo è il digiuno però se volete lo affrontiamo dopo la pubblicità dottore diamo spazio a questa breve pausa e poi torniamo con tutti i consigli e le informazioni davvero utilissime del andiamo avanti con il dottor Cavenzi con cui stavamo parlando di corretti stili di vita allora eravamo rimasti alla nutrizione uno dei pilastri diciamo di questo percorso che noi dovremmo in realtà seguire per assicurarci come dire un sano invecchiamento dottore sì io però già la discussione la chiacchiera che ci siamo fatti noi tre nella pausa è stata ovviamente chiarificatrice del fatto che io esprimo non un parere esprimo tanta roba che viene fuori dalla scienza ci mancherebbe il problema è che la scienza l'ho detto prima esprime anche cose diverse da quello che dico io quindi è difficile dire si fa così le mie sono delle proposte derivate da soprattutto la scienza moderna noi abbiamo uno scienziato che si chiama Walter Longo come anche Luigi Fontana sono due personaggi che probabilmente arriveranno al Nobel con il digiuno stanno curando cancro con il digiuno stanno curando neurodegenerazione con il digiuno quindi il digiuno che ci insegnò il buon Gesù insomma non che fa parte anche di altre culture religiose è qualcosa che effettivamente ci può depurare gestito bene ci dà la possibilità di ridurre la produzione di insulina aumentare il famoso ormone della crescita il growth hormone che vuol dire il sogno di tutti noi perché se cresce l'ormone della crescita viviamo più a lungo in salute di sicuro ci riduce lo stress dei radicali liberi lo stress ossidativo cioè ha una serie di azioni chiamiamole metaboliche comunque positive poi se noi non mangiamo e qui però parliamo di almeno 14 ore meglio ancora 16 ore piano piano dopo la dodicesima tredicesima ora possiamo dire che il nostro corpo si arrabbia e dice questo è impazzito come mai non mangia più allora il corpo le cellule reagiscono mettono in moto dei meccanismi antichissimi di conservazione noi siamo nati per sopravvivere siamo nati per procreare ma qui il discorso si fa a lungo però anche per sopravvivere più che per vivere a lungo più che altro per sopravvivere non l'astinenza dalle carni ma il digiuno proprio allora il pasto al giorno è un po' tosta farlo tutti i giorni ve lo dico perché non funzionerebbe messo così i due pasti al giorno invece funzionano e li stanno le 16 ore cioè chi vuole praticare il digiuno una volta alla settimana una volta al mese tutti i giorni io lo pratico tutti i giorni il digiuno intermittente è da circa 4 anni in che senso dottore che vuol dire io personalmente o comunque il digiuno intermittente ne sono le famose 14-16 ore si può fare in due modi o si salta la colazione o si salta la cena se si salta la colazione quando è indicato perché qui guai a dire tutti mettiamoci a digiuno perché poi molte persone non è indicato quindi oggi l'ho fatto esatto oggi se mi dici che non hai fatto la colazione esatto quindi se io salto la colazione neanch'io neanch'io ho fatto colazione se io ceno e sono le 21 ho terminato di cenare alle 13 quando vado a pranzo saranno 16 ore cosa faccio io la mattina cosa si può fare la mattina bere tanta acqua bere personalmente un caffè o chi vuole un tè senza zucchero altrimenti roviniamo tutto parte l'insulina e quindi la stevia per chi vuole mettere qualcosa ma come faccio ad arrivare a pranzo non affamatissima perché poi che succede dopo 16 ore arrivo sul tavolo che sono lì e vorrei mangiare di tutto quindi come ma soprattutto cade un mito mi calma cade il mito di tutti coloro che dicono i cinque pasti che la colazione è il momento di alimentazione è più importante esatto volevo elaborare un po' meglio il concetto sennò diventa un po' allora la colazione colazione da re pranzo da principe cena da poveri questo se uno fa tre pasti è assolutamente vero è chiarissimo è chiarissimo nel momento in cui si decide di fare il giugno se si salta la colazione le 16 ore le si acquisiscono stando a digiuno dalla cena al pranzo saltare la colazione vuol dire che comunque a colazione uno può bere prendere un caffè prendere un tè senza zucchero e va avanti come si fa a resistere? si fa attraverso il cambiamento che introduciamo dentro noi sul discorso col miele? no è uguale sempre zuccheri sono purtroppo ma amaro quindi beh la stevia o altro le ritrollo non è male per chi vuole aggiungere c'è un tre spettatore che dice io preferisco tutto da re tutto da re tutto da re allora andiamo alla seconda opzione c'è una seconda opzione nel senso che per chi vuole vivere la colazione da re poi se vuole vivere tutti i pasti da re no no dice tutto da re tutto tutto da re capiamo meglio cosa vuol dire però va bene ecco chi vuole mangiare a colazione vuole mangiare a pranzo e vuole eccezionalmente una volta alla settimana due volte alla settimana ognuno decide quello che vuole fare sul base di una consulenza del biologo nutrizionista del medico specializzato eccetera può saltare la cena che è anche più produttivo in termini di effetti metabolici perché la cena non è l'ideale abbuffarsi quindi saltarla proprio ripeto una volta a settimana o quando si vuole significa che io dal pranzo alla colazione sempre 16 ore passano allora che succede che quella colazione dopo il digiuno della cena deve essere un po' diversa non possiamo fare strutturata la maledetta colazione a cui ci hanno abituato negli ultimi 20 o 30 anni la fetta biscottata la marmellata il croissant la cioccolata i biscotti è tutto carboidrato non c'è nient'altro che carboidrato lì dentro allora quindi frutta già saltando la colazione all'italiana facciamo non all'italiana diciamo la colazione sbagliata facciamo una cosa buona perché saltiamo quasi solo carboidrati nella colazione di oggi il latte non è il massimo perché comunque contiene magari senza lattosi tanto zucchero ecco senza lattosi eventualmente ma comunque quindi quale sarebbe la colazione ideale se ho saltato la cena la colazione che può essere fatta ovviamente di pane e marmellata non sto dicendo che demonizziamo tutto ci mancherebbe miele eccetera però dobbiamo aggiungere grassi e proteine se non aggiungiamo i grassi e proteine che abbiamo perso con la cena le uova la pancetta introdurre un po' d'olio da qualche parte per esempio se uno vuole fare pane con l'olio al mattino io che quando vado negli hotel e vedi i giapponesi che mangiano il pesce a colazione mi sento male o vado a mangiare in un'altra stanza perché non posso che devo fare oggi estremizziamo sempre tutto il pesce a colazione è un po' complesso però le classiche uova strapassate o vedo i tedeschi che mangiano la carne eccetera io non ci riesco ma noi non stiamo dicendo almeno in Italia non ce la faremo mai giustamente a mangiare pesce e carne a colazione però se tu vuoi introdurre un po' di bresala un po' di prosciutto un po' di uova strapassate o comunque delle uova o introdurre le noci le mandorle gli anacardi sono i famosi grassi e proteine buoni il famoso kefir lo yogurt sono tutti anche ricchi di proteine cioè arricchiamo la colazione perché abbiamo perso la cena domanda dell'ignorante tra una tazza di latte scremato come vuole lei no scremato no non occorre o uno yogurt che differenza c'è beh lo yogurt ha un quantitativo poi dipende da quale yogurt perché fanno yogurt è comunque un processo di fermentazione si ferma prima rispetto al kefir ecco perché io tra yogurt e kefir preferisco il kefir sicuramente poi me lo faccio in casa con i miei granuli quindi sono garantito sul fatto che sia estremamente diciamo così salutare quello che si trova nei supermercati è comunque utile un po' meno diciamo così utile di altri kefir fatti in casa è gustoso dottore è un po' acido è un po' acidulo e quindi ci si deve un po' abituare lo si può arricchire mettendo dentro perlomeno come faccio io solitamente con delle noci appunto con della cioccolata fondente con qualcosa ma questo poi è un discorso sia Clemente mi dica che una tazza di tè va bene la tazza di tè soprattutto verde va benissimo ah perfetto ho detto la colazione ci rientro io ho il tè lo ha detto io prendo il tè la mattina quindi sta però voi mi state obbligando a uscire da questo studio che mi troverò fuori tutti i nutricionisti che puntano l'indice no 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 nessuno tutti perché io parlo con molti nutricionisti che mi hanno insegnato i baristi della zona magari che fanno fare colazione con Cappuccino e Cornetto torniamo un po' sul binario no che avevamo un attimo lasciato poc'anzi perché poi ovviamente sovengono domande sì sovengono domande anche pensando a ciò che possono così cogliere i nostri telespettatori quindi è tutto tutto normalissimo andiamo avanti però con le altre diapositive così possiamo eccoci qua questa già l'avevamo mostrata la natura però non ne abbiamo parlato velocissima la natura ci viene incontro perché ci viene incontro perché accanto alla nutrizione abbiamo gli integratori cioè che integrano l'alimentazione guai a dire che la sostituiscono e da quella diapositiva si vedeva che i polifenoli gli antiossidanti in particolare i polifenoli sono eccezionali lì ce n'è uno che vince quella gara in mezzo alla frutta che è il machi ad esempio che ha un potere antiossidante molto alto poi ci sono anche l'assai il melograno vedete i vari mirtigli eccetera però vedete come i polifenoli per esempio la curcuma un altro grande polifenolo dal grande potere antinfiammatorio quindi i polifenoli sotto forma di integratori poi ci sarebbero gli omega 3 sotto forma di integratori comunque senza entrare troppo nel dettaglio gli integratori hanno un loro razionale e questo machi dove si trova? è una bacca della Patagonia qui adesso il discorso si fa interessante se volete della Patagonia del Cile dell'Argentina che dovendo vivere in condizioni difficili ha sviluppato un contenuto di polifenoli altissimo rispetto alle nostre bacche che sono utili ma vivono meglio in Italia si vive meglio che in Patagonia perché fa meno caldo meno freddo ci sono meno attacchi diciamo così esterni allora si difendono meno meno ti difendi e meno polifenoli produci tu bacca o comunque tu frutta eccetera allora detto questo il potere di questa bacca che si trova sotto forma di bacca o più facilmente anche perché è più è un frutto oliofilizzato è molto più concentrato il potere antiossidante sotto forma di integratori ti prendi uno o due compresse e puoi darti un po' una mano in certe condizioni stavo immaginando di andare al negozio a chiedere mezzo chilo di macchi per esempio costerebbe una cifra enorme non te lo consiglio faccio un piccolo passo indietro velocissimo perché ci chiedono lo yogurt greco lo yogurt greco è una forma di yogurt anch'esso fermentato diciamo viene considerato probabilmente una via di mezzo tra lo yogurt e il kefir il kefir uberalles però a parlare di alimentazione oggi mi avete ucciso andiamo avanti andiamo avanti erano arrivati in Patagonia c'è tanta altra roba di cui parlare andiamo avanti e tanto abbiamo tempo ok dicevamo quindi degli integratori che sono utili e qui vedete un esempio poi se vogliamo andare oltre credo che ci sia il discorso dell'attività ecco la curcuma l'abbiamo parlato prima però attenzione la radice non il fioro la pianta che funzionerebbe molto meno ecco oltre la curcuma andiamo adesso al mondo dell'aterosclerosi perché? perché quando si parla di aterosclerosi qui è bello dire che abbiamo un'arma potentissima ed è l'olivo o meglio l'oliva o meglio ancora le acque di vegetazione nemmeno l'olio l'olio è utile ci mancherebbe lo sappiamo vai chi ce lo tocca ma le famose acque di vegetazione del frantoio contengono con un quantitativo di polifenoli enormi in particolare il famoso idrossitirosolo pensavo mi dicessi che arriva la scolana la scolana è la scolana è la scolana è la scolana perché sono ottime sotto tanti punti di vista dicevamo l'idrossitirosolo che è molto utile nel mondo dell'aterosclerosi è una sostanza naturale anch'essa ne abbiamo fatto studi le cose che vi sto raccontando sono quasi tutte basate anche sugli studi che abbiamo pubblicato adesso non sto qui a dire granché però in sostanza abbiamo anche studiato questi tipi di principi attivi passiamo alle restanti diapositive così andiamo avanti nel discorso eccoci qui e questo è il discorso dell'olio che ho appena fatto per cui nelle acque di scarto in realtà al di là dell'olio abbiamo queste sostanze molto potenti che combattono l'aterosclerosi la neurodegenerazione e le ritroviamo negli integratori andiamo avanti con le altre diapositive per favore perché altrimenti non è questo è lo studio che abbiamo fatto in cui abbiamo dimostrato come per esempio colesterolo radicali liberi potere antiossidante vanno tutti a migliorare grazie a questi principi attivi all'interno di determinati nutraceutici multicomponenti poi eccoci l'attività fisica parliamo di cose su cui credo e spero di non trovare opposizione qui sfonda una porta aperta però ho messo in verde quelle due frasi perché secondo me se lo capissimo e lo memorizzassimo probabilmente ci baderemo un po' di più al movimento quindi l'attività fisica fatta in quella maniera 20-30 minuti di passeggiata 4-5 giorni alla settimana diminuisce la mortalità globale adesso non leggo bene mi pare fosse scritto lì se me la fai vedere del 14% e aumenta la durata della vita di 3 anni vogliamo vivere 3 anni di più muoviamoci io credo che sia una cosa interessante è chiaro che l'attività fisica vedete riduce il rischio di cancro di metastasi del 46% riduce l'Alzheimer e il Parkinson del 32% ma è proprio il modo ideale per smaltire quello che mangiamo perché poi è chiaro che quando uno dice cosa mangio dipende anche da cosa faccio e sgombrare anche la mente e poi migliora tutto l'aspetto appunto la relazione mente-corpo la gestione dello stress passa anche per esempio per una buona attività fisica bastano 20 minuti camminata veloce 30 minuti come ha scritto lei sì sono già sufficienti attenzione a non farne troppo il concetto dell'ormesi l'attività fisica io che quando vado a camminare cammino un'ora un'ora e un quarto un'ora e venti faccio male dipende quante volte nella settimana almeno 5 volte oddio dire faccio male è un po' esagerato però c'è un limite che è da valutare su ogni singolo c'è un limite c'è un limite da valutare su ogni singolo individuo quindi non si può mai generalizzare come io non volevo generalizzare nell'alimentazione ognuno di noi ha un suo limite oltre il quale comincia a essere un po' controproducente ci sono degli studi che dicono che quando io faccio jogging qui parliamo di jogging io parlavo di camminare esatto quindi lo jogging fatto una o due ore al giorno è controproducente in termini di longevità attenzione stiamo parlando adesso di longevità poi se uno dice devo perdere 10 kg in fretta fai lo jogging che ci mancherebbe anche però farlo tutti i giorni un'ora o due ore comincia a essere un po' pesante dal punto di vista della salute nel tempo però l'attività fisica di fatto è l'arma oggi sicuramente documentata per vivere più a lungo in salute gestita bene senza esagerazioni insomma un antidoto naturale assolutamente va utilizzato poi andiamo avanti forza così vediamo un pochino quelle che sono le altre ecco questo è per esempio un nostro articolo in cui abbiamo voluto stressare il concetto di questa medicina integrata della psiconeuroindocrinologia e dei lormesi abbiamo fatto fatica a farlo pubblicare perché erano concetti un po' nuovi però alla fine ce l'hanno preso e ha fatto molto rumore devo dire con un pizzico di vanità ce l'hanno chiesto in tanti a livello internazionale è piaciuto insomma stiamo portando avanti questi concetti di come vivere più a lungo in salute basandoci su noi stessi e non solo su farmaci e tecnologia che peraltro ci servono purché non se ne abusi e possiamo andare avanti con le diapositive eccoci ecco allora parliamo adesso di nuovo di resilienza cioè noi quello che sappiamo è che mangiando in una certa maniera ma soprattutto sottoponendoci ad una buona attività fisica sottoponendoci a tutti questi piccoli stress quotidiani in misura adeguata che sia dicevamo il digiuno che sia il freddo che sia il caldo perché freddo e caldo nella misura giusta fanno bene la sauna la doccia fredda il bagno al mare io racconto sempre che faccio parte dei vichinghi del Piceno per cui io che non sono molto bravo i miei 20-30 bagni in inverno li faccio ma i vichinghi bravi li fanno quasi tutti i giorni i bagni al mare quindi detto questo se sbaglio io che faccio parte dei maldiviani del Terramano cioè allora sto dicendo che appunto quei 4-5 minuti anche nel caso della doccia anche meno un po' di freddo un po' di caldo un po' di digiuno un po' di stress ci obbliga a tollerare meglio va sollecitato insomma ci sta dicendo questo va un po' stimolato la tolleranza allo stress psicofisico è la resilienza e questo è un allenamento la capacità di adattarsi ad un cambiamento ad uno stress oggi abbiamo lo stress del covid ci dobbiamo adattare e risorgere rinascere tra poco parliamo anche di questo dottore perché io vorrei capire se c'è un modo per aumentare le nostre difese immunitarie fermo restando il fatto che ovviamente tutti aspettiamo il famoso vaccino e dobbiamo proteggerci per quel che possiamo fare in questo momento però se andiamo avanti cortesemente così possiamo un attimino passare in rassegna alle altre argomentazioni eccoci qui ecco il mondo pnei resilienza dicevamo perché poi il mondo pnei la psico-neuro-endocrinmunologia vuol dire semplicemente che interagendo tra mente e corpo per esempio andiamo ad aumentare la nostra resilienza la capacità di adattamento per cui io se riesco a stare a digiuno è perché ce la fa la mia mente non solo perché ce la fa il mio corpo e così via aumentare la resilienza e la resilienza la possiamo misurare noi nel nostro ambulatorio quando una persona vuol sapere quanto è resiliente abbiamo l'HRV c'era la diapositiva di prima è qualcosa di numerico ed è eccezionale quell'esame perché quando andiamo a vedere gli obesi i diabetici i cardiopatici questo esame ci dice tanto tutte le malattie croniche degenerative hanno quasi sempre un HRV alterato e una carenza di resilienza psichica e o organica allora attiviamola questa resilienza in che modo? sottoponendoci a piccoli stress attivando il mondo PNEI migliorando questa gestione la stessa meditazione la stessa preghiera è un piccolo stress se vogliamo che però sappiamo ci fa molto bene è uno stress la preghiera una preghiera fatta in una certa maniera può diventare uno stress qui parliamo di una preghiera non andare a messa che è una cosa per un cattolico come me è un grande piacere ma una preghiera gestita bene le classiche preghiere insomma sia nei monasteri eccetera è una forma benefica per la nostra mente e quindi anche per il nostro corpo di vivere la propria vita qualora la si voglia utilizzare e qui per esempio questa diapositiva si aggancia subito cioè il potere della mente per esempio migliorato anche attraverso la preghiera dicevamo lo yoga la meditazione eccetera è talmente grande che ci allunga la vita dell'11-15% l'ottimismo quindi io che sono ottimista vivi probabilmente invece che 100 anni 115 esatto quindi allungherei più dei tre anni che sono previsti sopra facendo su questo si può discutere perché adesso gli studi sono tanti però noi siamo un mosaico vorrei che si uscisse da qui io per primo voi e chi eventualmente ci sta ascoltando appunto con l'idea che siamo noi che attraverso tante cose costruiamo un mosaico e la mente è parte integrante di questo mosaico perché avere resilienza verso quello che ci accade la rabbia il rancore la negatività sono fattori che gli studi ce lo dimostrano in maniera inequivocabile fanno molto male alla nostra salute possiamo dire che qui uniamo la medicina la scienza anche un po' la filosofia una volta i filosofi erano anche dei medici e viceversa quindi si può dire che recuperare questo aspetto dell'umanità sotto forma di anche carattere di pensiero sicuramente fa bene al corpo ed è sbagliato immaginare che noi siamo fatti solo di cellule o solo di DNA peggio ancora perché noi siamo fatti di interazione costante tra mente e corpo cioè quando noi diciamo sto stressato mi viene lo zoster il fuoco di Sant'Antonio mi viene l'herpes al labbro abbiamo detto tutto lo stress ci abbassa l'immunità quindi più chiaro di così lo stress cronico c'era un'altra diapositiva questa velocemente perché molte delle cose che stiamo dicendo vengono decise da bambino io ho tenuto una conferenza un mese e mezzo fa alla palazzina azzurra su diciamo così i primi mille giorni di vita che decidono la nostra salute tutto vero nei nostri primi mille giorni di vita in base all'attaccamento che avremo ai nostri genitori in particolare alla mamma in base agli eventi che ci accadranno avremo poi un futuro psichico e organico diverso quindi i primi due anni e mezzo sono fondamentali sì la vita intrauterina e i primi due anni due tre anni di vita sono fondamentali ma lì entriamo in un discorso per chi vuole posso fare un attimo pubblicità chiedo scusa andate sul nostro canale youtube Vena Linfa e troverete un bel po' di video su questi argomenti faccio pubblicità a me stessa è un canale youtube tutto qui vediamo vediamo le prossime diapositive quindi allora dicevamo come migliorare questa gestione del mondo pnei ne abbiamo già parlato ricordiamoci della respirazione noi non respiriamo più bene eppure il potere della respirazione che è nell'attivazione del famoso nervo vago il nervo vago è quanto di più potente esiste nel nostro corpo per regolare il sistema neurovegetativo di cui siamo fatti noi siamo pieni di fibre nervose e questa cablatura che c'è nel nostro corpo se il nervo vago comincia a essere attivato ci sfiammiamo si abbassa la frequenza cardiaca si abbassa la pressione migliorano tante funzioni metaboliche e per esempio la respirazione è potentissima in questo senso potentissima il sonno è fondamentale perché purtroppo ancora una volta dormiamo poco e male mi vede completamente d'accordo ecco dormiamo poco e male perché andiamo a dormire tardi ci svegliamo presto perché andiamo a dormire pieno di elettricità quindi computer cellulari dormiamo con delle luci accese dobbiamo spegnere dobbiamo dormire al buio altrimenti se non dormiamo bene lo vedremo forse in una prossima diapositiva non si produce la melatonina dottore però a volte i troppi pensieri non fanno dormire esatto c'è chi cerca di aiutarsi con anche con dei medicinali assolutamente giusto però è anche vero viceversa i troppi pensieri non fanno dormire il non dormire fa venire i pensieri cioè non solo il non dormire ma la vita di tutti i giorni e torniamo sempre allo stress capito ma una cosa è vivere lo stress male una cosa è vivere lo stress bene la resilienza è tutto lì io non sto dicendo non ci dobbiamo stressare come facciamo con la vita io in questo momento sono super stressato sono qui che devo parlare devo tenere dietro a tutto voi che mi state facendo domande siete stressati però un conto è viverlo un conto è viverlo con quella noscialanza capacità di adattamento un conto è purtroppo portarselo dietro lo stress attiva dei meccanismi terribili e non ci fa dormire per esempio ha detto una cosa molto interessante tra le righe dormire spegnere tutto perché oggi quanti di noi io per prima vanno a dormire con il cellulare vicino il computer da un lato poi ci si addormenta magari con il cellulare proprio lì fianco al letto luce accese televisione accesa insomma siamo sempre iperstimolati sembra quasi che sia diventata una droga ecco tra virgolette però i motivi sono due per non farlo il primo è l'inquinamento elettromagnetico di cui purtroppo dobbiamo prendere atto oggi esistono delle app nel cellulare basta installarne una voi girate in G per le vostre stanze e troverete in alcuni punti l'elettromagnetismo è veramente forte poi abbiamo i cellulari a loro volta arriverà il 5G tutte cose utili che però portano una carica e già questo è un bel motivo per l'inquinamento elettromagnetico maggiore le varie antenne insomma abbiamo di tutto il wifi il bluetooth eccetera ma c'è il secondo motivo per dormire al buio e senza fonti elettromagnetiche nella stanza dove dormiamo ed è la melatonina la melatonina è un ormone che si produce esclusivamente al buio ad occhi chiusi ma se tu dormi ad occhi chiusi noi spegniamo gli occhi in questo momento con quella luce io la vedo la luce e non parte la produzione di melatonina parte esclusivamente per dei recettori che ci sono a livello della retina eccetera e parte la produzione di melatonina e la melatonina è un ormone che regola è chiamato il direttore d'orchestra del sistema psico-neuro-endocrino-immunitario ci sarà un motivo quindi regola un insieme di funzioni il ritmo sonno-veglia che è fondamentale abbiamo detto dormire ma anche regola tante funzioni appunto endocrine ormonali e se noi non la produciamo in quella diapositiva si vedeva se la facciamo rivedere un attimo si vedeva come la melatonina eccola qua viene prodotta di notte non viene prodotta certamente di giorno guarda caso quando si produce melatonina scende il cortisolo perché l'ormone dello stress che è il cortisolo che fa male quando è in eccesso e fa bene quando invece è in fase acuta perché ci difende ci porta insomma a sopravvivere se vogliamo però il cortisolo viene mandato giù perché sale la melatonina quanto migliora la nostra vita una buona attività sessuale? beh una buona attività sessuale nei termini giusti fa parte del mondo della regolazione normale delle funzioni del nostro organismo quindi io non ti so dare siccome non l'ho vista inserita nell'elenco adesso siamo in fascia protetta non si può no no senza scendere una cosa normale è un qualcosa che fa parte dell'attività umana fa parte della nostra vita appunto vissuta bene nei termini giusti è assolutamente migliorativa dello stile di vita mettiamola così ci fa stare bene ci fa stare bene sicuramente mancano pochi minuti dottore quindi melatonina che serve sicuramente io mi riservo l'ultima domanda però melatonina che sopra i 50 anni si comincia a produrre poco sopra i 60 quasi non c'è allora la dobbiamo integrare possibilmente sotto la lingua in gocce per non passare attraverso l'intestino perché così viene assorbita meglio è vero che in vecchiaia si dorme meno? sì infatti era proprio quella positiva si dorme meno si produce meno melatonina è un ciclo vizioso ok velocemente l'ormese l'ho detto prima se vogliamo aumentare la nostra resilienza fatemi uscire con questo concetto ripetuto dobbiamo esporci a piccoli stress ripetuti abbiamo detto la sauna il digiuno i polifenoli che rompono le scatole camminare a piedi scalzi il freddo sono tutti stimoli banali che però se sono di breve durata ci fanno reagire producendo tutta una serie di meccanismi benefici che poi vengono utilizzati fatemi dire solo questo oggi tra i farmaci antitumorali più potenti ci sono quelli a base di rapamicina perché perché bloccano e riducono l'attività di una molecola che si chiama mTOR ma voi lo sapete che con il digiuno l'mTOR si riduce ma voi vi ricordate che Veronesi metteva tutti a digiuno prima della chemioterapia quindi questo digiuno questa ormesi la possiamo riscoprire siamo arrivati ai piedi scalzi fra un po' i carboni ardenti che non ho fuori andiamo avanti velocemente se c'è qualche altra diapositiva perché vorrei far concludere il dottore questa è quella di prima questa è quella di prima grazie regia andiamo avanti ecco quello che abbiamo detto come l'attività fisica proseguiamo proseguiamo ancora ecco strizziamo l'occhio a coloro che amano l'estetica perché non è giusto parlare solo di salute perché invecchiare bene vuol dire anche avere un buon aspetto ci sono delle sostanze in questo studio l'abbiamo dimostrato forse c'è anche una diapositiva di un prima e un dopo che eccolo qua questa signora con due mesi con questo integratore è riuscita a migliorare un pochino anche la pelle cioè quello che noi riusciamo a fare con determinati integratori con un tipo di nutrizione con un tipo di vita poi ce lo ritroviamo anche sulla pelle questo volevo dire cioè l'aspetto esteriore senza contorno occhi perché io vengo stamattina da un'attività ambulatoriale dove sei donne su sei o cinque su sei mi hanno chiesto anche di guardare alle loro gambe dal punto di vista estetico il problema è che quasi tutti avevano un BMI sopra 32-35 il che vuol dire un'obesità importante allora se io voglio l'estetica devo anche volere mangiare meglio muovermi di più stressarmi nella maniera giusta quindi meno dal punto di vista cronico eccetera eccetera altrimenti non ce se la fa dottore allora andiamo alle conclusioni c'era prima la domanda di Alfredo l'ultima l'ultima domanda e poi le conclusioni del dottor Cavezzi l'ultima era dopo le conclusioni però la faccio adesso adesso ce lo dica vuoi farla dopo le conclusioni? Mille foglie o sento onore? ecco wow ne dica una almeno sappiamo di che morte dobbiamo morire preferirei non rispondere perché di dolci parliamo ma godiamoceli quel mille foglie e quel sento onore ma lei che preferisce? con il inizio lei che preferisce? ma mi piacciono tutte e due però devo dire ne mangio veramente poco perché cerco di limitare perché il concetto non è demonizzare i dolci e mangiarne in quantità il dottor Cavezzi ama i dolci ecco questo però ne mangia pochi le conclusioni no davvero ora tirando un po' le fila di tutto quanto è stato detto nella nostra lunga chiacchierata allora che cosa che cosa c'è da capire dottore? fondamentalmente c'è da capire che siamo noi che decidiamo se ci ammaliamo di più o di meno di malattie croniche degenerative intendo quindi non solo di virus che quelli invece se ci arrivano ci arrivano d'accordo oppure il trauma oppure l'incidente però le malattie croniche degenerative le decidiamo noi nel senso che col nostro stile di vita quanto ci muoviamo come dormiamo eccetera con la nostra nutrizione e con la nostra gestione dello stress siamo in grado di accelerare o rallentare il nostro invecchiamento migliorare o peggiorare la nostra salute dobbiamo esserne convinti guai a dire tanto poi ci pensa la pasticca tanto poi ci pensa il dottore certo che il dottore ci pensa ma se il paziente non collabora non ce la facciamo noi medici a riportare sotto controllo questa società ultimissima cosa un diabetico è quasi sempre obeso per cui si parla di diabetità è un'epidemia ormai abbiamo 4-5 milioni di diabetici in Italia che costano tra i 3-4 mila euro l'uno sono 15 miliardi all'anno il diabete di tipo 2 si può guarire mangiando meno mangiando meglio muovendosi di più e gestendo lo stress cronico si può anche guarire di diabete tipo 2 senza farmaci per assurdo ma al di là dei farmaci che servono e ci mancherebbe è proprio questo il concetto i 15 miliardi risparmiati all'anno la nostra voglia di recuperare la salute porterebbe a un miglioramento non ci troveremmo gli ospedali pieni di persone tutta una serie di anziani che non sappiamo più come gestire perché pieni di patologie neurodegenerative dobbiamo cambiare tante cose nella gestione della nostra salute e del sistema sanitario nazionale grazie grazie a dottor Attilio Cavetti grazie a tutti grazie a tutti